Oggi andiamo a vedere il confronto tra la nuova ISTRA 360 X4 e la ISTRA 360 X3 In descrizione ci sono ovviamente anche i link relativi a differenze di prezzo Ci chiediamo di capire in questo video se vale la pena spendere qualcosa in più per prendere il modello nuovo E lo stiamo avendo già che ci sono delle differenze sul piano sostanziale relativo a dimensioni e ovviamente caratteristiche Grossi passi in avanti, vediamo anche qualche clip di prova per renderci conto di tutto Per ogni domanda come sempre ci sentiamo qui sotto nei commenti Lascia un like al video se ti interessa e ti sarà utile Iscriviti al canale per perderti i prossimi contenuti, iniziamo Partiamo dalle differenze sul piano estetico perché come vediamo le dimensioni sono cambiate La X4 è più grande, leggermente più snella probabilmente e più lunga Questo porta ovviamente anche un aumento dal punto di vista della batteria come vediamo Stesso sistema a meccanismo diciamo ad incastro Però la batteria è ben più grande cosa che garantisce più di due ore di autonomia di registrazione 135 minuti con una sola carica Sul piano strutturale le telecamere sono simili perché cambia la dimensione Ma come stiamo vedendo anche sugli altri scomparti Quello che troviamo sopra la batteria è relativo al Type-C che migliora sul nuovo modello Funziona meglio sulla nuova X4, si ricarica più velocemente Grazie all'ottimizzazione che è stata fatta in casa Insta E in una prova diretta dal 20% al 100% in circa 40 minuti Ma probabilmente possiamo raggiungere anche delle performance migliori A seconda del cavo di ricarica e tecnologia di ricarica che andiamo ad utilizzare Sul piano operativo troviamo nel lato frontale che stiamo vedendo Di fatto un touchscreen estremamente reattivo anche sul nuovo modello Che ha un feedback migliore rispetto al precedente Che è un po' più macchinoso anche in forma diretta come vediamo Se voglio cambiare l'inquadratura alcune volte non si prende subito l'input che gli do E di fatto questo è un plus aggiuntivo da non da poco Lo schermo è anche più grande per quanto pochettino più snello come form factor E poi abbiamo i due pulsanti fisici frontali che permettono di cambiare come vediamo la modalità di ripresa Quindi questo sulla X3 mi porta direttamente su un obiettivo singolo Mentre dall'altra parte poi posso anche gestire altri tipi di riprese Poi ovviamente questo dipende dal setting della telecamera Sulla X4 tra l'altro ci sono anche implementazioni dal lato software Dove possiamo vedere che voglio andare a registrare in 8K E ci arriviamo tra poco al nuovo tipo di risoluzione Ma se avvio una riproduzione, una registrazione E devo di fatto rifarla perché sbaglio l'inquadratura Non mi trovo, posso tenere premuto E viene annullata la registrazione Neanche Guida Informatica sapeva di questa C'è il canale di Guida Informatica in descrizione Neanche lui conosceva questa funzionalità L'ho scoperto dopo Poi la andiamo a confermare con l'altro pulsante fisico E così perdiamo meno tempo di fatto quando andiamo a fare riprese Magari un po' più particolare con un action cam di questo tipo Prima di addentrarci poi nell'ottica tecnica delle due telecamere Un appunto relativo alle caratteristiche tecniche del nuovo sensore Ho visto tante recensioni Ovviamente questo video non è supportato da Insta E di fatto c'è stato molto focus ovviamente su quello che riguarda la risoluzione 8K Il sensore, il chipset nuovo a 5 nanometri Che permette di ottenere delle migliori prestazioni Gestire nuove risoluzioni Quindi l'8K, il 5.7K migliorato Livelli che prima non erano raggiungibili sulla X3 Partendo appunto dall'8K voglio fare una riflessione sulla nuova X4 Di fatto ho seguito tante recensioni italiane ed estere Questo video non è supportato da Insta E do uno spunto di riflessione Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti In qualsiasi recensione non si parla del tipo di sensore che c'è su questa nuova fotocamera Quindi c'è un nuovo chipset a 5 nanometri Che dobbiamo andarci a cercare tra l'altro in termini di informazioni E questo permette un'implementazione dell'intelligenza artificiale Essendo un nuovo chipset e anche la gestione di flussi dati importanti Come possono essere quello dell'8K Ho il 5.7K a 60 fotogrammi al secondo Che non c'erano sulla vecchia X3 Che è uscita a settembre 2022 Quindi c'è circa un anno e mezzo Se non qualcosa in più Un anno e otto mesi Di differenza tra le due fotocamere in termini di uscita La cosa che mi ha colpito è che non abbiamo parlato in modo esteso Anzi nessuno ha parlato in modo esteso Del sensore che c'è all'interno Quasi a dire che magari c'è un miglior supporto Dal punto di vista computazionale Al sensore in termini di risoluzioni Però probabilmente siamo su quelli Magari una nuova implementazione su un ipotetico modello successivo Potrà essere un sensore più grande Magari supportato da Leica Volendo dirne una Comunque non ne avendo visto un particolare focus Sul tipo di sensore Mi sembrava dovremmo anche aggiungere questo dettaglio Di confronto tra i due modelli Perché ci sono tanti passi in avanti Adesso parliamo anche delle risoluzioni chiaramente Però comunque probabilmente Il cuore proprio della fotocamera Probabilmente non è troppo diverso dal modello precedente Questo è un appunto personale Poi torniamo sulle caratteristiche tecniche E vediamo il confronto in modo esteso Eccoci con le due telecamere Sto in entrambi i casi facendo una registrazione Abbiamo la X4 sul bastone Sull'asta lunga 3 metri in carbonio Che offre Insta tra i vari accessori È una spesa aggiuntiva che non servirà in questo confronto Comunque vediamo Un confronto di ripresa Ve lo metterò sovrapposto al video chiaramente Sia per un modello che per l'altro Sia in un contesto in cui c'è luce Sono ben esposto e illuminato Sia in un momento in cui magari È una variazione sul piano dell'illuminazione Giusto per capire come si adatta il sensore In base alla situazione Un'altra grande differenza tra le due fotocamere Che va a favore della X4 chiaramente È la presenza di lenti di protezione Che escono all'interno della confezione In forma standard C'è anche una versione premium Che esce in un pacchetto combo Magari ve lo lascio in descrizione Si possono vendere a parte Permettono di risparmiare ovviamente Le lenti principali da eventuali cadute O problematiche in fase di registrazione Fasi estreme magari Per cui utilizziamo un action cam come questa Vediamo infatti che ci sono Scalanature specifiche sulla X4 Dove inseriamo la lente Con una rotazione la blocchiamo Mentre sulla X3 non sono presenti Questa implementazione permette Di avere non solo protezione maggiore Ma anche di adattare la ripresa Infatti sul menu di gestione rapida Troviamo la modalità protezione lente Che ci indica sia un riconoscimento automatico Ma anche la lente standard La lente premium Oltre alla sezione che ho già selezionato In questo caso Relativa all'assenza di una lente di protezione Per adattare automaticamente la ripresa In base alla distorsione E favorire uno stitching migliore possibile Sulla X4 Comunque un'implementazione hardware Supportata anche dal software Un altro dato tecnico riguarda il bitrate Perché la X4 arriva a 200 megabit al secondo Di bitrate ben superiore ai 120 della X3 Quindi i file che banalmente registriamo Anche in una risoluzione superiore Risulteranno di maggiore qualità Tutte queste informazioni aggiuntive Permettono poi in fase di editing Tramite l'app Insta O comunque Insta360 Studio Che possiamo utilizzare sul computer Una migliore di elaborazione E un'analisi Volendo con intelligenza artificiale Che permette di creare automaticamente Ci sono vari tutorial anche qui Stesso su YouTube Di creare automaticamente dei video Magari da condividere sui social In base solo alle nostre riprese Senza fare poi un editing manuale La X4 viene anche un'implementazione Di controllo tramite gesture Con la possibilità di usare il palmo della mano Per iniziare a fare una ripresa E di seguire in questo modo con le dita Per fare una fotografia Comunque uno studio Un miglioramento Un'ottimizzazione Che è stato fatto sul nuovo modello Sulla buona partenza Già del precedente Relativa all'usabilità della fotocamera In descrizione comunque Vi lascio un link di approfondimento Con un articolo con tutti i dettagli tecnici In modo ancora più approfondito Rispetto a questo video Discutiamone nei commenti Quale modello secondo voi Comiene acquistare Anche a fronte della differenza di prezzo Infatti in descrizione Trovate entrambi i link delle fotocamere Per vedere in tempo reale Se la differenza è circa sui 150 euro Come nel momento in cui sto pubblicando Se magari ci sta qualche offerta Sia per il nuovo Che per il vecchio modello Iscrivetevi al canale Per non perdervi altri contenuti Come questo qui Dove approfondiamo l'ottica tecca Anche sulle fotocamere E non solo Lasciate un like al video Se vi è piaciuto E vi è servito Un saluto a tutti E al prossimo video